Non sarà certamente un inferno per lui, ma anche Dante Alighieri, il sommo poeta, per solidarietà con gli studenti che dovranno studiare le sue opere mentre sono alle prese con la paura del Covid e del rispetto delle norme anticontagio, ha indossato la mascherina al liceo classico e scientifico De Santis di Salerno, dove questa mattina, così come nelle altre scuole cittadine, hanno ripreso il via alle lezioni in presenza, secondo una rigida riorganizzazione degli spazi. La scuola, guidata da Cinzia Guida, ha utilizzato tutte le aree a disposizione per poter ospitare in presenza per almeno un mese, almeno gli alunni delle prime classi, in modo da dare loro la possibilità di socializzare. Sono così state attrezzate aule nell'ex atrio dell'edificio, spostando l'ingresso in un'altra entrata, dove gli operatori scolastici rilevano la temperatura. E poi aule anche nella palestra, l'auditorium, i laboratori, banchi monoposto e mascherine per gli studenti, ai quali un cartello all'ingresso indica i percorsi da seguire. La scuola ha diversificato anche gli orari di ingresso ed uscita. Le classi successivi alle prime sono state divise in gruppi che a giorni alterni seguono le lezioni a distanza ed in presenza. Preside, viene di dire buon anno scolastico, ma veramente che sia di buon auspicio, perché certamente è un anno scolastico difficile, iniziato con tanto lavoro per la riorganizzazione. Insomma, quali sono le sue impressioni in questo momento? Beh sì, è vero, è un anno difficile, sarà sicuramente complicato, non sappiamo a cosa andiamo incontro, non sappiamo cosa ci aspetta. Però devo dire la verità che tutto il lavoro che abbiamo fatto, almeno per questo primo giorno di scuola, è sicuramente soddisfacente. È un lavoro, insomma, accurato, nei minimi particolari, abbiamo seguito i protocolli di prevenzione e di sicurezza, quindi i ragazzi sono entrati in maniera scaglionata. Sono arrivati tutti i ragazzi delle prime, quindi sono qui con noi in presenza, saranno qui per un mese e dopo aspettiamo, insomma, ovviamente. La sua scuola ha scelto una formula mista, distanza in presenza, con le classi anche che sono state divise in gruppi, insomma, un'organizzazione capillare che consentirà agli studenti di continuare a studiare anche laddove dovessero verificarsi dei casi di contagio. Assolutamente sì, insomma, il piano della didattica digitale integrata è proprio questo, insomma, cioè permettere a tutti i ragazzi, anche in caso di lockdown, di continuare regolarmente, insomma. Ma anche per fare poi tesoro di quello che è stato fatto l'anno scorso. Noi da marzo in poi abbiamo lavorato, come tutti, con la didattica a distanza, però nello stesso tempo abbiamo fatto tesoro di queste esperienze e l'abbiamo riutilizzata quest'anno in maniera diversa. C'è un messaggio in particolare che vuole inviare agli studenti e alle famiglie? Sicuramente sì, di stare tranquilli innanzitutto perché i loro figli sono affidati a persone competenti, a persone, a dei professionisti, a delle persone che veramente hanno cura dei loro figli. E ai ragazzi di dire, di fare delle scelte giuste, ovvero il comportamento, le regole devono essere rispettate. Le regole soprattutto quelle di usare la mascherina e il distanziamento. Sono due regole semplici però che devono essere assolutamente rispettate, servono per loro ma anche per gli altri. Grazie.